Oggi la Quinta A della Giacomo Leopardi porta e recita il viaggio dell'amore. Questa è una di quelle attività che rientrano nelle programmazioni educative e didattiche della nostra scuola e soprattutto abbraccia quello che è il campo della legalità. Infatti il viaggio dell'amore è ispirata alla Convenzione Internazionale di Diritti sull'Invanzia. I bambini vanno a soccorrere attraverso un viaggio immaginario altri bambini e li portano con sé in questo treno. Qua i bambini non solo vanno a conoscere quelli che sono i reali diritti per quella conoscenza, la conoscenza proprio, ma acquisiscono quelle che sono la consapevolezza del rispetto verso gli altri. Ecco la finalità di questo recital e penso che sia la cosa fondamentale da insegnare ad ognuno dei nostri bambini. C'è un bel giorno che accorgi che esistì, che ci fa prendere il mondo anche tu, non per tua volontà e ti chiedi in pista, siamo qui per voler te per lì. con i bracciotti sole che abbracciano, i tuoi occhi si ritorni, non per tua volontà, non per tua volontà, non per tua volontà, non per tua volontà, non per tu, non per tuo chiedere ad ognuno della vita. De ogni vita dolce E di nascita E di gloria E di nascita 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 Forte sera, non è pronto in te Per le cose di assoluto Cerca, non mi stesse con noi Alzai, non mi stesse con noi Potendo incontrare, non mi stesse con noi E' una cosa che fa questa vita che Ti insegna a noi E non si ferma mai E ogni vita lo sa E di nascerà Signore E di nascerà E di nascerà E di nascerà Grazie a tutti. Grazie.